Il Fogliano estromette di fatto il Montevarchi dalla corsa per il Primato nel Girone B di Eccellenza, giudicandosi l'anticipo dello Stadio dei Pini, davanti a circa 700 spettatori, di cui oltre 300 provenienti dal Valdarno. Si gioca di sabato per il Carnevale Foglianese, ma i tifosi rosso-blu non rinunciano a dare spettacolo in maschera. All'Aquila, ora a meno 9 dalla vetta, non basta un primo tempo dominato per lunghi tratti per far risultato. Alla fine deciderà la classe ancora cristallina dell'Eterno Monaci, a rientro tra i locali insieme a Mirko Barbero. Atos Rigucci sul campo gibboso, riparte dal 3-5-2 del finale con la Sinalunghese. Dirige Valerio Crezzini di Siena nel mirino delle critiche a Quilotte in un dopogara a Nervitesi. Prima del fischio d'inizio invece, minuto di silenzio e lungo applauso per il nostro collega Giancarlo Pippo Sbardellati, scomparso due settimane fa. Al primo affondo passano i Chianini al settimo, uno-due tenti Monaci e sigillo del bomber con proteste Montevarchine per un presunto fallo di mano del centroavanti. La reazione dell'Aquila è vehemente, la Sceb al ventesimo impegna Liberali su cross di Stefanelli. E dopo un tentativo parato a Monaci al ventiduesimo, la volè di Capitan Daveri, servito da Desiderio, fa gridare al pari ma esce al lato. È nell'area il gol dei Valdarnesi che nasce dall'incursione di Vangi in area e dal relativo fallo dell'ex Andrea Frio sul cannoniere Aquilotto. Rigore e dodicesima rete in campionato per Vangi. Prima dell'intervallo però Tegola sugli ospiti che perdono Samir Lasheb per infortunio. La ripresa inizia con un'altra svolta perché al quarto Cela, già ammonito, si becca il secondo giallo per un intervento su Monaci, che non perdona cinque minuti più tardi su Traversone di Castro. Montevarchi ancora più nei guai al ventiseesimo quando si fa cacciare Stefanelli per proteste dopo un colpo da volley di mano di Mencagli, ignorato da assistente e arbitro. In nove il Montevarchi non molla fino alla fine. Di Mannella l'ultimo tentativo. Vince il Foiano ma il Montevarchi, visto allo stadio dei Pini, può ancora centrare almeno i play-off.